L'aspettavo altro! Ci sono guai alla ferrovia! La tempesta ha spaventato Kali e scappato dal treno! Dobbiamo riportarla da Katie! Serve una squadra di soccorso con un cucciolo pompiere e un cucciolo poliziotto! Marshall e Chase, abbiamo bisogno di voi! Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso! Ecco come aiutare la Paw Patrol in missione! Per saltare, tocca lo schermo! Ottimo lavoro! Puoi aiutare i cuccioli a fare un doppio salto! Tocca lo schermo per saltare! Poi toccalo di nuovo mentre il cucciolo è ancora in aria! Per farlo saltare più in alto e più in avanti! Poi toccalo! Poi aspettiamo altro! Poi aspettiamo altro! Ottimo! Abbiamo bisogno di Chase! Tocca il distintivo di Chase per chiedergli aiuto! Ci penso io, Marshall! Grazie Chase! Abbiamo bisogno di Chase! Tocca il distintivo di Chase per chiedergli aiuto! Chase ha rapporto! Grazie Chase! Eccellente! Grazie! Oh! Oh! Timo! Oh! 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 Timo! Oh! 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 Eh! Sto bene? Abbiamo bisogno di Chase! Tocca il distintivo di Chase per chiedere gli aiuto! Chase ha rapporto! Grazie Chase! Preso! Oh! Ottimo! Oh sì! 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 Sì!